Chiudiamo con le pagine interne del Corriere di Bologna con un grande titolo Ecco fa 90, oggi sarebbe stato appunto il novantesimo compleanno del professore grande semiologo e intanto la nave di Teseo ripubblica il suo primo libro Filosofi in libertà, volume di uno pseudonimo da leggere assolutamente, questa è la copertina. E rimaniamo in argomento con un ospite che Ecco, Umberto Ecco, l'ha conosciuto molto bene, Anna Maria Lorusso, collegata con noi la vedete alle mie spalle, coordinatrice del corso di laurea in scienza della comunicazione dell'Università di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Allora dicevamo oggi avrebbe compiuto 90 anni Umberto Ecco, scomparso nel 2016, semiologo, autore di romanzi, racconti, saggi, professore tra i padri del Dams, fondatore della facoltà appunto in cui lei insegna, insomma chi era Umberto Ecco? È molto difficile fare una sinossi, un riassunto di quello che è stato il professore. Sì, molto difficile sintetizzare, lei ha già detto tutte le parole chiave, per me Umberto Ecco è stato innanzitutto un professore perché così l'ho conosciuto, però credo che questa sia anche una delle dimensioni, diciamo così, della sua personalità più importanti. Se c'era una cosa che davvero amava più di qualsiasi altra era insegnare, insegnare all'università, il rapporto con i suoi studenti, l'attenzione che dedicava loro, dopodiché c'erano i romanzi, dopodiché c'era l'attività editoriale, dopodiché c'erano gli interventi di attualità. Ma Ecco è sempre stato orgogliosamente un professore, un professore di straordinaria attenzione come forse mai più mi è capitato di incontrare nella vita. Quindi mi piace ricordarlo innanzitutto così. E cominciò a insegnare all'Alma Mater nel 71, uno dei fondatori del Dams, poi nel 93 fondò anche Scienza della Comunicazione. Il tutto ovviamente con un grande amore per i libri, scritti, letti, carte, insomma un archivio sterminato nella sua casa di Milano e non solo che viene riorganizzato anche per essere accolto dalla Biblioteca Universitaria di Bologna, 44 mila volumi, più carte varie in arrivo. Vi state organizzando ad avere un patrimonio inestimabile? Sì, è un patrimonio enorme che arriverà appunto nell'autunno del 22 e siamo naturalmente trepidanti nell'attesa perché poi comporterà un lavoro altrettanto enorme di messa a disposizione degli studenti, dei ricercatori, di tutti coloro che potranno continuare a lavorarci. Se ne sta occupando direttamente il Centro Internazionale Umberto Eco, diretto da Costantino Marmo, altro naturalmente suo allievo prima di me e prima di tanti altri, pensiamo sia molto importante in un certo senso restituire questi libri all'università e alla disponibilità di tutti coloro appunto che vogliano fare ricerca perché questo era un tema che a Eco stava molto molto a cuore e quindi siamo tutti assolutamente certi che saperli nella biblioteca della sua università dovrebbe renderlo orgoglioso, diciamo così, quindi è un nostro gesto di attenzione, un modo per provare umilmente vorrei dire a proseguire a tenere viva la sua eredità. Grazie, grazie Anna Maria Lorusso, coordinatrice del corso di laurea in scienza della comunicazione di Unibo per questo ricordo di Umberto Eco, a presto. Grazie a voi, buona giornata.